Cari simi fratelli e sorelle, buona domenica a tutti e buona festa di ogni santi, di tutti i santi. Chiaramente non era il caso di iniziare questa nostra riflessione augurando buona festa di Halloween a tutti quanti, perché dai vari significati che ne sono dedotti, dal significato principe, forse c'è poco da festeggiare, da tutti quanti i connotati esoterici, molto seri e da tutte le cronache che a volte sentiamo legate a questa festa. Senza volere impaurire nessuno, senza confondere il commerciale con il sacro, con l'esoterico. Ma comunque sia la concomitanza che questa festa di carattere gaelico legata al mondo anglosassone ha qualcosa da dirci anche sul nostro modo di vivere alla santità. Halloween in fin dei conti era letteralmente nell'irlandese antico, nell'inglese dell'Irlanda dell'antichità, era né tanto né quanto che la notte degli spiriti sacri, legata anche a una festa, una festa che sanciva il capodanno irlandese gaelico, dove un po' tutta quanta la transumanza delle greggi e tutti quanti i frutti della terra ricoglievano di ricchezza. E quindi c'era un richiamo di questi spiriti della terra per donare fecondità. E quindi era una festa che parlava anche di morte. Ecco, ma senza soffermarci troppo su questo, la notte degli spiriti sacri. Fratelli e sorelle, a volte anche noi identifichiamo la santità come uno spirito che è sacro. Il Vangelo di oggi invece, tratto dalla versione di Matteo, ci fa capire che la santità non è uno spirito che è sacro, alla quale dobbiamo chiedere protezione, alla quale dobbiamo impetrare qualcosa o raccomandarci per conseguire qualcos'altro. La santità è qualcosa di puramente umano, e di così terribilmente umano da calarsi nella concretezza dell'esperienza umana. Vediamo un attimo perché. Al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, alla vista delle folle, Gesù salì sul monte, sappiamo il monte che significato ha per la narrazione matteana, e come si fosse dovuto si accostarono a lui discepoli. Allora aprì la bocca per amministrarli dicendo, sta dicendo qualcosa, per amministrarli, per dirgli, guardate che questo che io vi sto dicendo è importante, lo fa sul monte, Matteo lo colloca sul monte, il monte che significa monte Sine, il monte che significa monte Sion, il monte che significa monte Hermon, cioè la consacrazione stessa che Dio fa nei confronti dell'uomo perché Dio scende. Gesù su quel monte parla così, beati voi poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che piangono perché saranno consolati, beati miti perché possederanno la terra. E poi alla fine dice beati perseguitati a causa della giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Qui sottolineiamo un piccolo particolare di carattere sintattico ma anche di carattere morfologico che il testo ci dona. Le beatitudini sono otto, Matteo. Sei sono tutte quante al futuro. Il futuro per un simita che scrive in greco significa né tanto né quanto che modalità, cioè tu devi decidere com'è il tuo futuro. Il futuro è qualcosa di incerto, nel tempo stesso che Matteo scrive, scrive in un futuro che è l'unico tempo che si preoccupa non tanto del come ma quanto del quando. Quando avverrà questa beatitudine? La domanda invece è un'altra. Quando avverrà che io piangerò? E sarò consolato? E sarò quindi capace di consolare? Quando avverrà che io avrò fame della giustizia? E sarò capace di non compiere ingiustizia? Quando sarò misericordioso e sarò capace di far trovare agli altri misericordia? Perché l'avrò trovata prima di tutto per me stesso. Il futuro ci dice qualcosa di forte, che a determinare la nostra vita, la nostra santità, la nostra umanità, non è il passato ma è il futuro. E questo futuro si cinge di qualcosa che è radicale nell'esperienza di Israele e nell'esperienza umana. Beati poveri spiriti perché di essi è il regno dei cieli. Beati perseguitati a causa della giustizia perché è di loro il regno dei cieli. Questo regno, questo monte, ma sul monte, il monte Nebo, Dio dice a Mosè che il regno non è ciò che identifica Israele. Ma il regno prende forza da qualcosa che Israele ha già vissuto, e cioè la legge. Ecco che cos'è la santità. Aver paura del proprio futuro? Sì, ma sapere che in quella paura per il proprio futuro, in quel costruire il proprio futuro, in quell'ansia di voler creare il proprio futuro, c'è la forza dell'umanità, della legge, della parola. Cioè tu hai una certezza, e questa certezza te la dà la Torah, te la dà la parola, perché Dio parla al tuo cuore. Allora, beati voi, quando sarete capaci di ascoltare nel pianto per essere consolati, quando voi vi ricorderete, quando voi ascoltarete, quando voi guarderete con gli occhi della vostra memoria, beati voi, perché sarete veramente uomini. E queste due inclusioni non sono il futuro, ma sono il presente. E questo che significa? Che festeggiamo la festa degli spiriti oggi? No, festeggiamo la nostra festa, la festa dell'uomo. Un uomo che ricorda, un uomo che spera per il futuro, e un uomo che vive con forza, con bellezza, il suo presente, perché il suo presente è l'amore che può dare oggi. Il Signore vi dia pace, e vi colmi di ogni bene.